Ciao e bentornati su questi schermi. Sono appena tornato da Parigi e purtroppo dobbiamo parlarne non necessariamente con accezione positiva a sto giro. Dovete sapere che Parigi è una delle mie città preferite in assoluto, ci sono stato tre volte, questa volta in particolare come l'anno scorso nello stesso periodo ci sono stato perché avevo una foto là in mostra, ma comunque di quello ne parliamo tra un pochettino. E vi assicuro che al netto di ogni difetto che ha Parigi, e ne ha tanti, Parigi è una città stupenda, dall'architettura alle boulangerie, perché si mangia benissimo, sono tipo l'equivalente dei nostri forni, più o meno, diciamo che nelle boulangerie forse c'è un po' più di roba. Ma comunque al netto di ogni situazione politica, anche perché hanno un governo che insieme al nostro, guarda, proprio pum pum, comunque in quanto turista mi ci sono sempre trovato benissimo, ecco. E poi per ultimo, ma non per importanza, diciamo che è un pochettino la casa della street photography, no? Pranzi di oggi, piselli al wasabi e mochi congelati che dovremmo finire tutti quanti, non so quanti pezzi sono. C'è scritto, credo sei. Speriamo. Davvero ho preso un succo al mangostin, beh, boh, sembra le bacche di terza generazione dei giochi Pokémon. Più che altro, più che un frutto, pare una melanzana. Questo ha il lici, il lici fa tipo anche l'agerato, non sa di niente, sembra di mangiare tipo la gomma pane. Assaggiamo questo succo alla melanzana. Non è, sembra sì, ti pulisci anche questo in realtà. Ma quindi, perché vi sto dicendo che io per un pochettino eviterei di andarci? Allora, per chi ne lo sapesse, in questo periodo, forse si è appena concluso, ma comunque c'è, barra c'è, appena stato il Roland Garros, e poi a breve inizieranno le Olimpiadi. Quindi già così potete iniziare ad avere un'idea della quantità spaventosa di gente che c'è in giro. Aggiungeteci che Parigi è comunque, bene o male, sempre piena di turisti, anche perché c'è Disneyland Paris. Non dimentichiamoci poi che chi abitava in periferia è stato praticamente sfrattato, perché in quei punti devono costruire tutti quanti i vari villaggi olimpionici, strutture per ospitare atleti, la stampa e tutte queste robe qui. E concludiamo col fatto che Parigi è veramente, veramente piccola ed è bensa comunque di roba da vedere, ce n'è veramente tanta. Questo, diciamo questo mix di cose, ha fatto sì che veramente in giro ci fosse un macello, ma veramente tanta di quella gente dove vai vai a ogni angolo, sempre pieno stipato. E questo non è necessariamente un male, non sto dicendo ai turisti c'è troppa gente, bla bla bla, però chiaramente questo, unito a un governo, un pochettino così, no, a una gestione della città che un po' me lascia a desiderare, diciamo che a sto giro me l'ha fatta godere abbastanza meno, poi è chiaro, non sto dicendo che la gente non ci debba andare. Però cerchiamo di capirci, insomma, senza dover sottolineare cose ovvie. Poi così, giusto per dire, considerate che la Tour Eiffel è praticamente tutta quanta palizzata da quasi ogni angolo, perché stanno costruendo appunto, credo, una sorta di mini stadio o una roba del genere, che praticamente a Louvre ci sarà un concerto di Post Malone, e quindi, insomma, si faceva veramente fatica ad andare in giro e a fare street photography, perché poi il succo del discorso alla fine, per me, resta sempre lì. Perché, come vi ho detto anche nel video di Londra, che vi lascio qua sopra da qualche parte, ovviamente una città, una persona che fa street photography, la valuta molto, anche in base alla quantità e alla qualità di foto che si porta a casa, e questo indubbiamente, perché sennò non starei facendo un video che si chiama la street photography a Parigi. Poi, chiaramente, quando vi dico di non andarci, non intendo nel senso assoluto, perché io per primo sicuramente voglio tornarci, perché è una città che appunto, come vi ho detto, mi piace tantissimo e in cui mi diverto tantissimo a fare street photography, in cui mangio bene, però sicuramente prima di tornare aspetterò che tutto questo marasmano si calmi un pochettino. Parlando della mostra, vi dico che sono, sono super, 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 super contento. Questa è stata la mia seconda mostra a Parigi, la settima in totale, e non vedo l'ora di potervi dire anche delle prossime, perché, wow, che figata. Vi assicuro che poter essere in mostra insieme a così tanti altri fotografi mega talentuosi, non solo di street, ma in generale, vedere la gente che si avvicina alla tua foto per guardarla, essere in quel tipo di contesto, vendere la foto, perché fortunatamente anche a questo giro sono riuscito a venderla, è una sensazione che è veramente difficile da spiegare a parole, ti fa sentire proprio soddisfatto di quello che fai, ti fa dire, cavolo, ne vale veramente la pena, e è veramente una gran bella sensazione che auguro a davvero tutti quanti voi. Poi poter essere comunque lì e fare magari due chiacchiere con dei fotografi che apprezzi, o che hai appena conosciuto, o con della gente che fa tutt'altro, ma che comunque si trova lì per un motivo o per un altro, è veramente bello. Diciamo che si crea questo clima in cui siamo praticamente tutti quanti lì a divertirci, a stare bene tutti insieme, a guardare cose che ci piacciono, e insomma è molto molto bello. Tornando a Parigi e alla città in generale, vi dico che sicuramente io ci sono arrivato particolarmente stanco, anche perché ero da poco tornato sia da Berlino che da Londra, le mie aspettative su Parigi, in base a quelle vissute l'anno scorso, in cui c'ero stato per la prima volta da fotografo, perché c'ero già stato prima, erano altissime, la stanchezza era tanta tanta tanta, perché oltre ai viaggi ho lavorato come un dannato e non stavo fermo da veramente credo 20 giorni consecutivi e arrivare lì e essere stanco così ha sicuramente influenzato tanto. Ma sapete che cos'altro ha contribuito a farmi dare un giudizio negativo per questa volta a Parigi? Il fatto che ho preso per la prima volta la metro a Parigi e mi sono reso conto che hai tornelli, non puoi pagare col bancomat, quindi non in tutte le stazioni, o meglio, non in tutte le entrate ci sono, come si chiamano, i boxettini dove fai i biglietti cartacei, quindi se tu entri in un punto della metro dove quello non c'è, non puoi entrare perché non puoi pagare col bancomat, quindi devi uscire, trovare un'altra entrata, ammesso che ci sia per quella particolare stazione, fare il biglietto e puoi entrare. Follia, rega, follia. Cioè, ma siamo a Parigi, è una delle capitali del mondo, ma puoi? Va bene. Ho scoperto una roba fighissima, adesso non mi ricordo come si chiama, io sapete che mi preparo poco per fare questa roba, tendenzialmente vado sempre a braccio, comunque sicuramente ve lo lascio scritto in sovrimpressione da qualche parte. Ho trovato un mercato, rega, con così tanta gente, ed era largo tipo, boh, tre metri e mezzo, una roba del genere. Rega, io così tanta gente, tutta insieme, non l'avevo mai vista, ma è stata veramente un'esperienza che anche solo passarci in mezzo senza fare foto, io qualcosina l'ho fatto, è una figata, è follia, vedi veramente la gente vera di Parigi, no, la vera Parigi, quella un po' più radicata, che figata. Direi che siamo all'ultima clip di Parigi e sono qui solo per consigliarvi una roba fighissima che ho scoperto in realtà grazie a un'amica che mi ha detto che nelle città ci sono questi locker dove tu puoi tipo prenotare e poi molli tutti quanti i bagagli e scegli quanto tempo, scegli quale dimensione, ci sono quelli grandi e piccoli, sono mega comodi. Noi abbiamo l'aereo alle 9 questa sera e abbiamo fatto il check out alle 11 e per non stare con tutta quanta la roba addosso tutto il giorno abbiamo messo qui la roba e la siamo venuti a prendere, adesso da qua prendiamo il taxi per l'aeroporto. Una figata. Io direi che ci siamo praticamente detti tutto quanto, purtroppo questa volta non è andata bene come speravo, ma è un po' il bello della street, no? Il poter fare foto con ciò che capita e con ciò che arriva, è un po' il suo fascino. Poi è chiaro, tu puoi metterci del tuo, ma insomma, devi fare un po' con quello che la strada quel giorno ti offre. E sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Alle volte va bene, altre volte va meno bene, ma è appunto il bello della street, secondo me. Io come al solito vi super ringrazio per aver guardato il video fino qui, vi ricordo che se vi va potete supportare insomma tutta questa roba iscrivendovi, lasciandomi un commento, un mi piace, insomma, parliamone un pochettino nei commenti, fatemi sapere voi, Parigi, se ci siete stati, come la trovate, come non la trovate, se ci siete stati nell'ultimo periodo soprattutto, perché, vabbè, è un po' così. E noi ci vediamo sempre qui con un prossimo video. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Grazie a tutti.